Signori, buonasera, Luca di approcciala.it, siamo in diretta, diretta numero 24, attendiamo che si colleghi, io attendo sempre un attimo per vedere se la notifica effettivamente arriva, quindi attendiamo che qualcuno si colleghi. Per chi guarda indifferita, solite premesse, quindi per chi guarda dalla pagina Facebook o dal canale YouTube, per guardare questi video in diretta bisogna accedere al gruppo Facebook di cui trovi il link in descrizione, quindi nella descrizione. C'è scritto accedi al gruppo segreto, clicchi, segui la procedura e si arriva ad accedere al gruppo. Qui la notifica vedo che non arriva, non vorrei che ci fossero problemi, come sempre, tutte le volte c'è sempre qualche difficoltà, abbiamo già il primo collegato, ciao Cristian, buonasera. Cristian, per caso ti è arrivata la notifica di questa diretta, perché qui come sempre ci sono difficoltà tecniche. Allora, due secondi. Allora, abbiamo i primi collegati. Allora, intanto, vabbè, intanto che attendiamo che qualcuno si collega, come notate nel link, per chi guarda dal gruppo Facebook, come notate c'è... C'è Gabriele, no, c'è Daniele. Daniele, se puoi dirmi se ti è arrivata la notifica, perché tutte le volte è sempre la stessa storia. Quindi, se per caso vi state collegando, anche per chi poi guarda indifferita, se non vi arriva la notifica, cliccate in alto a destra, ci sono tre puntini, per abilitare le notifiche in diretta. Ah, forse perché ho messo il link, forse perché ho messo il link nella diretta. Va bene, pazienza, lo... capimi, vabbè, pazienza. Quindi, come dicevo, per chi guarda adesso dal gruppo Facebook, c'è un link che, praticamente, uscirà dal videocorso, poi si chiamerà dall'approccio al sesso, che uscirà a marzo del 2020, probabilmente, e potete lasciare i vostri dati di quando esce e venite aggiornati, quindi penso che il fatto che non arrivi la notifica dipende da questo discorso qua. Poi non so se si chiamerà, effettivamente, dall'approccio al sesso, non so se ci sono problemi su questa cosa qua, e in caso si chiamano, tipo, dall'approccio alla camera diretto, o qualcosa del genere. Quindi, oggi abbiamo un bel po' di domande, io continuo a non vedere le notifiche che arrivano, quindi suppongo che stavolta non è arrivata la notifica, e lo si nota anche dal fatto che quasi nessuno è collegato. Perfetto. Quindi, l'argomento di oggi è domande e risposte, come praticamente quasi sempre. Alcune volte, lo dico per chi magari è nuovo, visto che ci sono un po' di persone nuove nel gruppo, per chi è nuovo ogni tanto si fanno delle dirette in cui parlo di un argomento specifico, questa volta invece è domande e risposte, la maggior parte delle volte le dirette sono domande e risposte, ok? Quindi, per chi avesse domande riguardo i corsi, può contattare l'assistenza clienti via WhatsApp, il numero è 351-646-6774, o se non trovate tutte le informazioni riguardo i corsi sul sito www.approccio alla.it. Io sono ancora un attimo da questa cosa qua, della notifica, che io penso che non riuscirò mai a capire Facebook, non riuscirò mai a capire come funziona. Vabbè, andiamo avanti, tanto le domande le avete inviate prima in anticipo, quindi per chi guarderà Gabriele, Gabriele è collegato, ma Gabriele, a quanto vedo non è arrivata la notifica, mi puoi confermare? Non ti è arrivata la notifica, lo vedo anch'io dal fatto che siamo in quattro collegati. Non so il perché, forse perché ho messo il link nella diretta, non vorrei che fosse per questo motivo, e vabbè, pazienza, potrei provare a scollegarmi e poi a rifarla la diretta per vedere se è questo qua il problema, però. Lo scopriremo lunedì prossimo, lunedì prossimo faccio la diretta senza il link, solo mettendo il nome, forse era questo il motivo, anche le altre volte che non arriva la notifica. Vabbè, Gabriele invita qualcuno, non lo so, di di alla gente di collegarsi, scrivi a tutti quelli che conosci, di di collegarsi. Va bene, partiamo con le domande, intanto chi è collegato può scrivere le domande, tanto ce ne sono parecchie oggi, visto che siamo sempre in di più nel gruppo, quindi è normale che tutte le altre ci saranno sempre più domande. Allora, Anonimo chiede, quante ragazze bisogna approcciare in un mese per diventare bravo partendo da zero? Allora, come minimo, partendo da zero io dico sempre almeno 100 al mese. Ora, può sembrare tanto, agli inizi, io mi ricordo che quando ho iniziato mi avevano detto di approcciare dalle 15 alle 25 ragazze nuove ogni settimana, mi ricordo che ho detto assurdo, troppo, però guardandolo adesso dico, cioè, non è niente. Ora, io attualmente in realtà ne faccio anche di meno di approcci, però c'è una diretta che ho fatto qualche settimana fa, che si chiama Statistiche dopo 1572 approcci, la trovate su YouTube, si chiama esattamente così, non mi ricordo che numero era questa diretta, e lì proprio vedi quanti approcci ho fatto mese per mese, per arrivare a oggi. A oggi ne faccio molti di meno di 100 in un mese, però non conosco nessuno. Eh vabbè, pazienza. Io ce l'ho aperta anche qua dal computer, la diretta, però i commenti stavolta si vedono. Tutte le volte ce n'è uno diverso di problema. I commenti però stavolta si vedono, quindi andiamo avanti. Quindi almeno 100 approcci al mese, quindi se possiamo prenderci in giro quanto vogliamo, io ti potrei dire sì dai esci una settimana, due volte a settimana, però la verità è per fare 100 approcci al mese, che sono 25 a settimana di media, dovrei uscire molto probabilmente almeno 3 volte a settimana, se non anche 4. Ok? Quindi stiamo parlando di punto di partenza 0. Poi devi capire che non funziona l'andare piano, ok? La cosa del vado più piano, però arrivo lo stesso, non funziona. Quella è una grandissima stronzata. Chi ha l'audiocorso lo sa benissimo, chi poi prenderà il videocorso che uscirà a marzo, se vi ricordo lì nel link trovate la pagina per iscrivervi alla lista d'attesa per il videocorso, in modo che poi quando esce venite notificati su WhatsApp, quindi dovete lasciare anche il numero di telefono, no, non vi chiama nessun call center rumeno, ok? Quindi semplicemente ricevete un messaggio su WhatsApp quando esce il videocorso. Quindi non funziona andare piano, ok? Io per esempio quando ero agli inizi che, cioè neanche da, sì, diciamo nel primo anno io comunque uscivo sette volte alla settimana per approcciare per la strada e uscivo una volta a settimana per andare in discoteca. Ho detto, ok, cioè, tecnicamente comunque mantenendo una costanza si dovrebbe arrivare comunque al risultato, ovvero al diventare bravo anche nella parte della discoteca. Invece no, non funziona perché non basta la costanza, serve anche la frequenza. Quindi se vai piano non funziona, anche se magari vai piano per un lungo periodo, ma non funziona. Quindi bisogna andare a una certa velocità e una certa frequenza per arrivare al risultato. Se mantieni costanza, anche se è per un lungo periodo, non funziona. Ciao Mirko, ciao Daniele. Signori, abilitate le notifiche. In alto a destra ci sono tre puntini per abilitare le notifiche tutte le volte che ci sono le dirette. Ciao Carlo. Non so perché stavolta non è arrivata la notifica. Non so il perché. Credo che sia perché ho messo il link nella diretta. Comunque, poi dopo a fine diretta cliccate su quel link e vi iscrivete alla lista attesa per il videocorso che uscirà a marzo, dove imparerete tutto quello che c'è da sapere dall'approccio fino al sesso. Poi, Hermes chiede Ciao Luca, ritieni fattibile approcciare in maniera diretta mentre la ragazza sta aspettando la metro o dentro la metro stessa? Recentemente ho iniziato a usare quotidianamente la metro per andare al lavoro. Il flusso di ragazze che entrano ed escono sono davvero tante, considerando che in quel caso non avrebbero la scelta di potersene andare. Oltre a tutte le altre persone che potrebbero ascoltare e che potrebbero imbarazzarla. Non so se è una mia paranoia inutile, ma penso che sia più funzionale approcciare quando sta per uscire, piuttosto. Allora, Hermes Allora, io fondamentalmente credo di non aver mai approcciato in metro, mi ricordo una volta, però non ero io che approcciavo, ero facendo la spalla a un altro ragazzo. Non, quindi quello che ti consiglio io, è non dentro il vagone, quindi non dentro la metropolitana, più che altro quando sei sulla banchina, ok? Quindi prima che sali nella metro, perché poi, diciamo, se poi la metro è molto affollata, poi tu puoi anche magari non sentire la pressione sociale. Quindi non è tanto quello il problema. Il problema è che la ragazza potrebbe sentire la pressione sociale, ok? Se la approcci lì in metro e ci sono tante persone intorno, magari tu non ti senti condizionato perché magari hai lavorato su te stesso, non hai la paura del giudizio degli altri, però la ragazza molto probabilmente si sente condizionata a questo. Quindi è meglio approcciarla quando sei sulla banchina, quando sta arrivando il treno e poi, dopo, continui un'interazione dentro, in modo che da fuori comunque le persone non vedono che la stai approcciando, che l'hai approcciata in questo momento, ok? Oppure, come dici te, appunto, anche mentre sta scendendo. Quindi una cosa che devi fare fin da subito per, diciamo, evitare, diciamo, che l'interazione venga interrotta bruscamente, è quello di capire prima possibile la logistica. Quindi esattamente come in strada, capire quanto tempo lei rimane sul treno, sulla metropolitana, perché se a un certo punto lei arriva alla sua fermata e deve scendere all'improvviso e tu rimani lì, come un deficiente, devi capire tra quanto tempo lei deve scendere. Altrimenti poi rischi che l'interazione si interrompa così. Poi puoi scendere magari anche te, per prendere magari il contatto, oppure per prendere, cioè per continuare la conversazione un po' e poi prendere il contatto. Quindi puoi fare anche così. Una cosa che puoi fare se vuoi, io non... l'avevo fatto quando facevo un altro lavoro, dove lavoravo praticamente tutto il giorno. Mi hanno fatto i bigliettini da visita da dare alle ragazze e siccome appunto lavoravo praticamente tutto il giorno non avevo tempo per approcciare le ragazze. Quindi quando magari approcciavo così di sfuggita una ragazza, se magari l'interazione era cortissima perché io dovevo andare via, lasciavo il biglietto da visita con il numero di telefono. Però l'ho fatto tipo due o tre volte, quindi non l'ho fatto sufficienti volte per poterti diciamo dare un riscontro a livello di risultati. Andrebbe fatto decine e decine di volte per vedere poi quanto converte. Quindi puoi fare anche questa cosa qua, però ti consiglio di capire prima possibile lei tra quanto deve scendere e poi o prendi il contatto lì sul vagone oppure scendi anche te e poi continui la conversazione un attimo, prendi il contatto e poi basta, poi te ne vai. Poi altra domanda, intanto chi si sta collegando se ha domande da fare potete scriverle. Io intanto vedo se da desktop ci sono novità. No, ok. Quindi, Anonimo chiede Ciao Luca, come facciamo a valutare un buon mentore anche all'infuori della seduzione? Purtroppo oggi nella formazione girano anche molti fuffari. E uno, di buttare via i soldi non fa mica piacere. Allora, questo qua l'ho già spiegato altre volte. Sono due i criteri, molto facile. Uno, persona che insegna ha risultati dimostrati e anche direi costanti, ok? Però fondamentalmente, restiamo sul semplice, persona che insegna ha risultati dimostrati, sì, no. Se sì, si passa avanti. Se no, già da scartare a prescindere. Ora, questa cosa in realtà potrebbe non essere, diciamo, la parte che la persona che insegna ha risultati potrebbe anche non essere importante perché poi se fondamentalmente la persona è in grado di far ottenere risultati, va benissimo. Io potrei anche essere scarsissimo con le ragazze, però magari lo so insegnare a voi. Voi avete risultati, andrebbe benissimo così. Però di solito, se uno non è capace, poi è difficile anche che sappia far ottenere risultati. Per esempio, però, questa cosa non è vera con gli allenatori di calcio o magari di chi fa l'allenatore. L'allenatore, magari di una squadra di calcio, magari non ha mai giocato a calcio, però magari è capace di insegnare e far ottenere una vittoria alla squadra di calcio. Quindi delle volte ci sono delle eccezioni. Però fondamentalmente, uno, persona che insegna ha risultati dimostrati, non lui dice di avere risultati. I risultati dimostrati. Due, gli studenti hanno risultati dimostrati e rimanendo nell'ambito seduzione, come dico sempre, i risultati non sono il numero, l'appuntamento, il bacio o gli stand date. Quelli sono risultati, in parte, il risultato è andare a letto con la ragazza. Che voi vogliate una relazione di lungo termine, che voi vogliate diventare più sicuri con le ragazze, che voi vogliate migliorare con la conversazione. Qualsiasi cosa volete, lo fate o come, diciamo, prima dovete passare per il sesso, oppure dovete, cioè lo fate perché poi volete arrivare al sesso. Per esempio, una relazione di lungo termine, non ci arriverete senza prima fare sesso con la ragazza. Oppure il migliorare sulla conversazione, l'essere più sicuri di voi stessi, perché lo fate? Così, perché volete avere una piacevole conversazione con la ragazza? Sì, però perché poi a un certo punto si vuole arrivare al dunque. Ok? Quindi, il risultato è quello. Non il bacio, l'appuntamento, sono dei risultati a metà. Quindi, il risultato, cioè, quindi, come ho detto, i criteri sono persona che insegna ha risultati, sì, no, persona che, gli studenti hanno risultati dimostrati, quindi questo è quanto. E si applica in qualsiasi ambito, ok? Abbiamo Davide collegato. Davide, c'è stato un crollo delle notifiche. Non so se hai visto, c'è stato un crollo delle notifiche. Questa qua non la capirà nessuno. Capirà solo Davide. Allora, Davide, se hai domande, scrivi pure. Oggi hai domande e risposte. Poi, Anonimo chiede, come continuiamo a motivare noi stessi? La routine e i carichi di lavoro possono pesare nel nostro percorso. Allora, fai conto che pensavo di creare un corso su sta cosa qua, su come essere motivati, su come continuare a fare le cose nel lungo termine, perché ci sono un sacco di cose a dire, quindi fai conto che... Adesso ti butto un po' di concetti come mi vengono, però tieni conto che l'argomento è molto ampio. Quindi, una cosa è tenere bene a mente il proprio obiettivo, quindi tenere a mente quale sarà il risultato finale, ok? Quindi, qualsiasi cosa sia, non so, con le ragazze, non so, magari è come obiettivo, non so, andare a letto con due ragazze diverse ogni mese che approcci di giorno per strada, trovarti una fidanzata, oppure, non so, al di fuori dell'ambito ragazze, perdere 5 chili, metterti in forma, guadagnare di più a lavoro, qualsiasi obiettivo sia, tenertelo bene a mente ti aiuta quando ci sono i momenti di difficoltà, ti aiuta quando ci sono i momenti in cui non ne voglio di fare le cose. Tenendoti a mente, ok, lo sto facendo perché voglio ottenere questo risultato, ti motiva poi a fare l'azione, quindi però devi tenertelo bene a mente questa cosa. Ora, come si fa a tenerselo meglio a mente? bisogna scriverlo, scrivere qual è il tuo obiettivo, scrivere qual è il risultato che vuoi ottenere. Non mi ricordo qual è la percentuale, però l'avevo visto una volta, me l'ha insegnato una persona che ha risultati, nell'ambito in cui mi stava insegnando, che non mi ricordo di quanto, tipo, mi sembra che, scrivendo un obiettivo che vuoi raggiungere, le possibilità di raggiungerlo aumentano di, tipo, tre volte, non mi ricordo di quanto era, però un conto è tenere solo a mente, un conto è scriverlo, quindi scriverlo ti aiuta a tenerlo meglio a mente, di conseguenza sei più motivato, devi rileggertelo tutti i giorni, devi tutti i giorni rimettere il focus su quello, devi rileggertelo, devi immaginarti come sarai, come ti sentirai a obiettivo raggiunto, quindi tutte queste cose qua ti aiutano per mantenere la motivazione. La motivazione, comunque, la puoi anche imparare. Io fondamentalmente, cioè, io non è che ci sono nato con la motivazione, cioè, come tutti, nessuno, come si dice, nessuno nasce imparato, come, anche se credo che a livello italiano non sia corretto dire così, però qualsiasi cosa può essere imparata, anche l'essere motivati, ok? Io, per esempio, mi ricordo che l'ho imparata, diciamo, con lo sport. Io facevo atletica fino a un po' di anni fa, e mi ricordo che l'ho imparata molto con la corsa, quindi andare ad allenarsi anche quando fa freddo, anche quando non si ha voglia, anche quando si ha altre cose da fare, allenarsi sotto la pioggia, e quando, appunto, la corsa, a un certo punto arrivi al punto in cui sei stanco, ma comunque devi continuare a tenere il ritmo. Quindi, si può allenare con lo sport, la motivazione fondamentalmente, sforzandoti a fare l'azione, malgrado le difficoltà, malgrado il fatto che non hai voglia. Tutte le volte che ti sforzi di fare l'azione, malgrado il fatto che non hai voglia, e malgrado le circostanze avverse, diciamo che, uno, cresce la tua autostima, due, diciamo, sviluppi più, diciamo, forza mentale, resistenza interna, ok? Tutte cose che poi vanno ad alimentare la motivazione, ok? Che altro dire? Perché ci sono un sacco di cose. Ecco, una cosa che ho visto di recente in un video, chiaramente non in Italia, che dicevano che, praticamente, per ottenere un risultato, mettiti in situazioni in cui quel risultato è inevitabile, ok? Concetto un po' fine. Però, per esempio, mettersi in una condizione in cui il risultato è inevitabile, per esempio, non so, mettiamo che vuoi fare i famosi 100 approcci al mese, per chi parte da zero, che sembra una cosa mostruosa da fare agli inizi, che comunque, tal lo è, se parti da zero, fate questa cosa qui, per chi vuole provarlo, per chi vuole prendere le cose seriamente, prendete una cifra di soldi che vi motiva, non so, magari prendete 1000 euro, e li date a un vostro amico, e gli dite, ti tieni i 1000 euro se questo mese non faccio 100 approcci, se non approccio 100 ragazze. Vedrete che sarete molto motivati a fare quei 100 approcci, altrimenti i soldi se li tiene, quindi fate proprio magari un... vi mettete con il vostro amico, fate un video, vi filmate, in modo che comunque rimane una prova, diciamo, video, cioè, se volete fatevi il contratto, però non mi sembra il caso, è una cosa che fate così fra amici, fatevi il video, in cui dite, fate, diciamo, questa scommessa, e poi lo fate veramente. Quindi, se non arrivi ai 100 approcci, il tuo amico si tiene i 1000 euro, si tiene i 100 euro, si tiene la cifra che avete deciso, quindi una cifra che vi motiva, se non sono i soldi che vi motivano, non so, stabilite qualcos'altro, ok? Ciao Fatmir, buonasera signori, per chi si sta collegando, non so se è un problema del gruppo, il fatto delle notifiche, o se c'è qualche altro problema, in caso, chi si sta collegando adesso, che non ha capito dove si trova, cliccate in alto a destra, ci sono i tre puntini, per abilitare le notifiche, tutte le volte che c'è una diretta. Ah, e poi un'altra cosa, sempre per riguardo alla motivazione, è capire anche che non c'è tempo, capire che non c'è tempo, non c'è tempo da perdere, e questa cosa qua, adesso facciamo proprio, usiamo la calcolatrice, prendetevi, faccio capire il fatto che non c'è così tanto tempo, per migliorare, ok? Nel momento in cui capite che non c'è tempo, vi date da fare, e sprecate meno tempo, vi faccio capire bene questa cosa. supponiamo che diciamo l'età in cui, non so, si può continuare ad approcciare, in giro, a fare la bella vita, ad approcciare in giro, fondamentalmente poi, si può andare fino a tanti anni, però fondamentalmente, rimaniamo nel normale, parliamo di, non so, facciamo 45 anni, quindi stabiliamo questa età, quindi 45 anni, cioè poi fondamentalmente, quando hai 50 anni, 60 anni, difficile che va in giro ad approcciare le ragazze per strada, in discoteca, o a rimorchiare in giro, quindi, rimaniamo sui 45 anni, mettiamo che, abbiate, facciamo un esempio di una persona giovane, mettiamo che una persona abbia 20 anni, quindi, sono, quant'è? 25 anni, quindi, non si vedrà un cazzo, come sempre, quindi 25 anni, ora, di questi 25 anni, uno dice, beh, è un bel po' di tempo, 25 anni, tuttavia, ci sono, dei piccoli problemi, ovvero che, intanto, un terzo, della vita, viene passato a dormire, quindi, a questi 25 anni, dobbiamo toglierci, un terzo, quindi, diviso, 3, per 2, sbagliato, scusate, 25 diviso 3, per 2, fanno, 16.6, non si vedrà un cazzo, vabbè, 16 anni, vabbè, facciamo, arrotondiamo, fanno 17 anni, e uno dice, beh, comunque, 17 anni, è ancora un bel po' di tempo, per andare in giro, a rimorchiare, approcciare, fare la bella vita, con le ragazze, ci stiamo dimenticando, il fatto che, altre 8 ore, di solito, le si passa a lavorare, c'è un lavoro da fare, da mantenere, oppure chi magari studia, che va a scuola, quindi, ci sono altre 8 ore, da togliere, quindi, questi 16 anni, facciamo 17, 17 diviso 2, fanno 8 anni e mezzo, ok, da questi 8 anni e mezzo, comunque, uno dice, beh, 8 anni e mezzo, per andare in giro, a rimorchiare, fondamentalmente, però, non è che passi, ok, tolto il lavoro, tolto il dormire, ok, non è che però passi, tutto il resto della giornata, sempre, in giro, a rimorchiare, ci sono da togliere, i vari spostamenti che fai, i pasti, il cazzeggio, questo, quello, quell'altro, si riduce parecchio, questi 8 non sono più 8 anni, e questo, questo esempio è fatto su una persona che ha 20 anni, quindi, se avete 30 anni, se avete 40 anni, capite che, rimane molto poco tempo, rimane un anno, rimangono due anni, a livello di tempo, ok, quindi, capire, questo ognuno lo faccia con la, con la proprietà, e capite che, c'è molto meno tempo di quello che pensate, quindi, quando capisci che c'è molto meno tempo, inizia a svegliarti un po' di più, quindi, bisogna fare anche, questi ragionamenti ogni tanto, per darsi una pedata nel culo, chi avesse domande, può scrivere, io intanto mi bevo il tè caldo, vediamo se qualcuno scrive robe da desktop, sembrerebbe di no, Allora, Anonimo chiede, rispondere o ribaltare la sua obiezione, sono fidanzata, oppure, ok, sei simpatico, però ti posso solo, lasciare il contatto social, oppure, per qualsiasi motivo suo, lei non vuole lasciarti il contatto, perché è in presenza, di altri suoi amici, allora, diciamo che, non è stata, articolata molto bene questa domanda, però, allora, da come l'hai detto, pare che non ci sia attrazione, questa ragazza, una ragazza che ti dice, ok, sei simpatico, però, però ti posso solo lasciare il contatto social, è la classica frase del, del, quando vieni frenzonato, ok, quindi, da come l'hai detta, semplicemente non c'è l'attrazione, quindi, ciao, Nunzio, buonasera signori, perché, siccome ci sono un po' di persone nuove nel gruppo, nonostante non arrivino le notifiche, e, per chi non ha capito dove si trova, per chi guarderà questo video poi indifferita, io insegno come si approcciano le ragazze di giorno per strada, insegno tutto dall'approccio fino al sesso, ok, quindi, per chi non mi occupo di discoteca, non mi occupo di circolo sociale, di come rimorchiare la propria amica, non mi occupo delle chat di incontri, Tinder, Badoo, eccetera, o di rimorchiare su Facebook o Instagram, approcci di giorno per strada, in caso, qualcuno non ha capito dove si trova, ciao Nunzio, buonasera, se sei domani, Nunzio, clicca in alto a destra e abilita le notifiche, tutte le volte che c'è una diretta, allora, quindi, tornando alla domanda, quindi, da come l'hai detta, non c'era attrazione, poi, se sei con amici, se sei con amici, ricordati che devi farti amico l'amica, ok, in modo che ti porti l'amica dalla tua parte, ok, quindi, se sei con amici, non devi mai ignorare l'amica, altrimenti poi questa cosa ti gioca a sfavore, oppure la isoli, semplicemente, ora, di giorno è un po' complicato isolare una ragazza, se magari sei con amici, però si può fare, io l'ho fatto, cioè, fra l'altro, per chi ha il mio audio corso, c'è proprio la registrazione audio, di un approccio tra le ragazze, e poi dopo, le altre due se ne sono andate, io sono rimasto con la ragazza che mi interessava, però, è stata una cosa voluta, non è che è successo per caso, ciao Alessio, oppure, una cosa che puoi fare, però, come ti ho detto, da come l'hai detta, molto probabilmente non c'era attrazione, ok, però, una cosa che puoi fare, se proprio, magari lei non ti vuole dare il numero, perché di fronte alle amiche o agli amici, puoi, appunto, una cosa, uno, isolarla, e due, magari anche se non la isoli, puoi magari farti dare il numero a voce, nel senso che, attacchi il registratore vocale, del telefono, e le dici, dimmi il tuo numero, me lo ricorda a memoria, chiaramente non te lo ricordi a memoria, prendi il numero, cioè, lo registi con il registratore vocale, e poi dopo, in un momento in cui sei più tranquillo, te lo segni, oppure se non glielo dici anche, le dici, guarda, so che sei qua con i tuoi amici, quindi non puoi farti vedere che, che mi dai il tuo numero, e, questo però, chiaramente, se è contestuale, come cosa, ok, ci sono sempre dei dipende, le dici appunto, guarda, so che sei qua con i tuoi amici, non puoi farti vedere che mi dai il tuo numero, però puoi dirmelo a voce, me lo segno con il registratore vocale, e poi dopo ti scrivo, ok, quindi, se però questa cosa ci sta, se questa cosa è contestuale, ok, poi, Anonimo chiede, Ciao Luca, come sono strutturati i tuoi corsi da 2-7 giorni? Quanta teoria e quanta pratica? Allora, quanta teoria e quanta pratica? È pochissima teoria, è praticamente quasi tutta pratica, poi se vai sul sito www.approcciola.it, lì vedi abbastanza chiaramente i dettagli, sulle varie pagine dove sono spiegati i dettagli dei corsi, fondamentalmente la mattina ci si trova alle 10 e mezza, tutti i vari giorni ci si trova alle 10 e mezza, poi si fa circa un'ora e mezza di teoria, su cose però specifiche, perché la teoria ti viene data tutta prima del corso, viene dato come bonus un audiocorso che tratta tutto dall'approccio fino al sesso, è un audiocorso di oltre 7 ore di teoria, più, ce ne sono 11 di registrazioni audio, di miei approcci, dall'approccio fino al numero di ragazze che poi ho anche rivisto, quindi interazioni che poi hanno convertito in un appuntamento, ci sono registrazioni audio di miei stand date, quindi audio anche magari di un'ora, due ore, registrazioni audio di miei appuntamenti, quindi c'è un sacco di roba che ti viene data prima, in modo che ti prepari e poi dopo arrivi al corso, e diciamo si fa una teoria solo diciamo su cose più specifiche, riguardo magari a difficoltà tue, poi sono circa 6 ore di pratica sul campo, poi io dico circa perché magari, per esempio l'ultimo corso c'è stato giovedì e venerdì, che è appena finito, e il primo giorno l'abbiamo finito alle 10, la parte di pratica, perché? Cioè le 10 di sera, quindi la parte di pratica è durata 8 ore circa, dalle 14 fino alle 10, quindi dalle 2 fino alle 10, sono 8 ore di pratica sul campo. Ciao Fabio, perché? Perché tipo alle 8 circa, ha approcciato una ragazza, ci è andato in instant date, forse era prima delle 8, ha fatto un instant date, e poi dopo si sono rivisti per l'appuntamento la sera stessa, quindi la parte di pratica l'abbiamo finita alle 10 di sera, e poi dopo c'è la sessione di correzione a fine giornata, quindi questa qua è la struttura, è quasi tutta pratica, la teoria ti viene data prima del corso. E ti posso dire, anche per esperienza di un ragazzo che era venuto a fare un corso con me, mi sembra ad aprile, che aveva appena fatto un corso con un'altra nota scuola di istituzione in Italia, che proprio ha notato molto questa differenza del fatto che mi ha detto che quando ho fatto il corso con l'altra scuola di istituzione, era praticamente metà teoria e metà pratica, era un corso di 7 giorni, e è stata metà teoria e metà pratica, quindi anche tutte giornate delle volte di 6 ore in casa a prendere appunti. Siccome sono tanti i concetti da spiegare, appunto io li do prima, tramite l'audio corso, e comunque nella parte di pratica, fai conto che nella parte di pratica questo ragazzo, mi ricordo perché appunto mi ha colpito questa cosa, mi ha detto di aver fatto, li ha contati, 17 approcci in 7 giorni, in una settimana al corso. 17 approcci di solito li si fanno nei miei corsi di 2 giorni. Gabriele che è qua presente, in 2 giorni eravate tu e l'altro studente, erano in 2 al corso, e quanti approcci avete fatto? Tipo 36 approcci a testa in 2 giorni. E avete fatto anche i stand date, l'altro studente ha rietto al bacio, quindi nonostante poi si ottengono anche i risultati, si fa un sacco di pratica. Il ragazzo che ha fatto il corso di 2 giorni adesso, che è finito il giovedì e venerdì, quanti approcci abbiamo chiuso? Quanti approcci totali? Erano tipo 53, se non sbaglio, in 2 giorni. L'ultimo corso di 7 giorni che c'è stato, sono stati 141 approcci, era un corso individuale, quindi era solo lui, 141 approcci in 7 giorni, e di questi 141 approcci 6 appuntamenti, quindi capite che è molta molta pratica. Allora, c'è qualcuno che ha scritto un commento, Nunzio, vediamo che cosa dice Nunzio, allora, dimmi se una ragazza gli dico che la parola amore sta facendo, sta facendo la sua passeggiata a 3 anni e sembra che da quando ho conosciuto te sembra tornare la parola amore, lei mi risponde, ma dire che nella vita chissà, tu cosa mi dici che... Non ho capito, Nunzio, credo che non sia italiano questo, non ho capito. Se vuoi provare a riscriverla in maniera più comprensibile, magari ti posso rispondere. Dimmi se una ragazza dice... No, non ho capito. Se vuoi provare a riscriverla, magari riesco a risponderti. Oppure se qualcuno vuole provare a tradurmela. Quindi, andiamo avanti. Anonimo chiede se la tipa che approccio è estremamente provocante e come mi comporto, posso dirle che mi arrapa una volta ottenuta la fiducia? O posso tirare fuori il discorso più avanti quando è presa totalmente? Allora, non solo deve esserci un alto, diciamo, livello di fiducia, deve esserci anche un alto livello di attrazione. Ok? Quindi lei deve essere veramente molto presa da te. Io non ti consiglio di dirle che ti arrapa, ti consiglio magari, se proprio vuoi usarlo, magari lei dice che la trovi molto sexy. Ok? Ti consiglio di usare la parola sexy, non che ti arrapa un sacco. Io fondamentalmente non lo faccio. Non... Perché comunque è una cosa... è troppo. Ti esponi troppo. Poi va anche bene, ci sono situazioni in cui si può fare tranquillamente. Sicuramente in un sacco di... ci sono un sacco di situazioni in cui lo potrei fare anch'io, però scelgo di non farlo. Tanto non serve. Al massimo appunto le dici che la trovi molto sexy. Però io ti direi almeno dopo il bacio, come minimo. Ok? Quindi complimenti così esagerati vanno bene quando lei è già molto attratta e quando c'è comunque anche un buon livello di fiducia. Ok? Quindi io ti consiglio di farlo, se proprio vuoi farlo, dopo il bacio. E quando vedi comunque lei è molto presa. Perché magari comunque arrivi al bacio e però magari lei ancora non è super presa. Semplicemente vi siete baciati. Ok? Io non lo faccio mai, questa cosa dell'espormi così tanto. Perché comunque le dimostri, questa poi è quello che penso io, le dimostri che non sei abituato a questa situazione. Non sei abituato a ragazze super belle, super provocanti, ad arrivare magari al bacio con la ragazza. Quindi farle un complimento così esagerato diciamo le dimostri che non sei abituato appunto a queste situazioni. Ok? Io delle volte glielo dico magari quando siamo già nudi, quando magari siamo nel letto, che magari lei si spoia, che c'è un fisico della madonna e magari lì glielo dico. Ok? Però prima io lo sconsiglio. Poi lo puoi fare. Però quando c'è già un alto livello di attrazione e quando c'è già comunque un buon livello di fiducia e comfort. però ti sconsiglio di farlo. Cioè non è una cosa... Diciamo ci sono più svantaggi che vantaggi, secondo me. Non è una cosa così importante. Abbiamo Arielle Collegato. Buonasera. Allora, vediamo se Nunzio Stolta ha scritto in italiano che siccome ho fatto la convivenza con una persona per tre anni e poi sono stato single per tre anni, sembra che conoscendo questa ragazza la parola amore stia tornando con lei. Ok. Però questa non è una domanda. Dimmi se una ragazza sta facendo una fasteggiata tre anni, sembra che quando ho conosciuto se no tu cosa mi dici? Continua a non capire, Nunzio. Lei mi ha risposto mai dire mai, chissà. Che significa gli piace. Io continuo a non capire. Io continuo a non capire cosa stai dicendo. Cioè, adesso è scritta in italiano però continuo a non capire la domanda. Allora. Cioè, ho capito però non... Cioè, è scritto in italiano adesso però non capisco la domanda. Tanto ci sono ancora un bel po' di domande quindi hai tempo di riscriverla in maniera più comprensibile. Includimela tutta. Cioè, fai conto che tutto quello che ho già letto non l'ho letto. Fai conto di rifarmela tutta a zero in italiano in modo che la capisco. Allora. Andiamo avanti. Allora. Aspetta che faccio un sorso. Allora. Anonimo chiede Se andiamo da una ragazza non per forza dobbiamo approcciarla possiamo semplicemente conoscerla e arricchire il nostro bagaglio e conoscenza sul mondo femminile magari più avanti approccieremo l'amica. Allora. Questa è una situazione da circolo sociale quindi da... appunto da... diciamo un circolo sociale di amici amiche magari colleghi di lavoro quindi io non mi occupo di questo ricordiamoci io mi occupo di approcci di giorno per strada ragazze sconosciute non approcci in discoteca non approcci in chat su Tinder su Facebook su Instagram non approcci tramite circolo sociale quindi le persone che già frequenti quindi magari le tue amiche magari le tue colleghe di lavoro non mi occupo di quello mi occupo di quello che ho detto prima approcci di giorno ragazze sconosciute per strada oppure in un qualsiasi contesto di giorno oppure anche durante la quotidianità quando sei in giro per strada stai andando magari a fare la spesa oppure stai a fare la spesa incroci una ragazza che ti piace ci puoi andare a parlare io insegno quello ok? per rispondere alla tua domanda diciamo che la conoscenza sul mondo femminile comunque l'acquisisci meglio approcciando ragazze per provarci non approcciando ragazze magari per fartele amiche così diciamo ottieni più conoscenza sul mondo femminile la conoscenza sul mondo femminile la ottieni diciamo meglio approcciando ragazze per provarci non per fartele amiche ok? quindi ti sconsiglio questa cosa se vuoi imparare veramente come si fa allora vediamo Nunzio se sta scritto in italiano allora lei mi ha risposto a me piace questa ragazza ma a lei gli piaccio per dire Nunzio continui forse sono io che non capisco non lo so non so che dirti Nunzio non comprendo quello che stai scrivendo allora vediamo dove siamo arrivati altro anonimo che scrive ciao Luca in percentuale quante delle ragazze che hai conosciuto erano strafighe sexy eccetera ma prive di contenuti senza argomentazioni profonde la ragazza pretende ma anche noi in fondo allora in percentuale non lo so però diverse ragazze diciamo che più vado avanti meno mi capita di trovare cioè di uscire con ragazze diciamo solo belle e non anche interessanti perché fondamentalmente le scarto già a prescindere se nell'approccio vedo che non è non è interessante è solo bella non ci troviamo neanche magari non prendo neanche il contatto e me ne vado o magari prendo il contatto giusto perché magari abbia imparato 10-15 minuti e sarebbe strano andarsene via senza prendere il contatto però poi magari non le scrivo neanche quindi diciamo attualmente non mi capita praticamente mai però in passato mi ricordo che ce le sono state diverse di ragazze anche molto molto belle molto molto fighe però totalmente prive di di contenuto mi ricordo una con la quale sono uscito addirittura sei volte una modella italiana che però lei non faceva niente nella vita faceva solo appunto la modella però poi non faceva nient'altro zero cioè se le chiedevi cosa fai nel tempo libero diceva niente infatti quando ci sono uscito anni fa diciamo la vedevo a un livello superiore poi dopo l'ho già raccontato altre volte questa storia che ci ho fatto cinque appuntamenti tipo due tre anni fa poi dopo l'ho rincorciata per strada tipo sei sette mesi fa e mi ha fermato lei tipo ci siamo riusciti insieme e lì ho visto che proprio ormai non ero più interessato a lei perché tipo in quei due tre anni che sono passati lei è sempre rimasta uguale io invece sono cambiato un sacco e vedevo che non ero più interessato non era più interessante per me mentre invece ai tempi che aveva la bellezza e diciamo io la vedevo diciamo a un livello molto superiore perché appunto avevo poca esperienza però poi più andate avanti più avete esperienza più andate a cercare anche ragazzi di qualità anche proprio a livello di contenuto però all'inizio non potete pretendere troppo quindi all'inizio vi consiglio di fare più esperienza possibile poi dopo naturalmente vi verrà da selezionare e non andare con tutte quindi anche se una è bella ricercate poi altri contenuti per esempio mi ricordo cioè mi ricordo ce n'è una che che tecnicamente dovrei vedere però diciamo non ho intenzione di vederla che praticamente lei vive non dico dove qua a Milano vive praticamente no non quasi fuori vive fuori Milano leggermente fuori Milano e questa qua è una che di sicuro se vado all'appuntamento riesco ad andarci a letto di sicuro solo che appunto siccome lei lavora tutto il giorno e cazzi vari dovrei andare io da lei nella sua zona che è praticamente quasi fuori Milano lei esteticamente non è male buona quindi non è un 6 quindi non è una giusto giusto accettabile comunque bella però non parliamo non è neanche una strafiga io non ci vado e non ci andrò ho già smesso iscriverle da qualche settimana e non ho intenzione di andarci perché non ne vale la pena per me ok perché è una diciamo molto normale non ha niente di speciale e anche se è una scopata assicurata non ci ho voglia di andare non non è di mio interesse ok però questi sono discorsi più che potete fare più avanti all'inizio dovete fare più esperienza possibile poi dopo con l'esperienza potete dire ok sono capace di conseguenza non mi accontento più e quindi potete fare la vostra selezione però non fatelo agli inizi io mi ricordo che agli inizi ho fatto robe assurde tipo una volta una mi aveva invitato ad andare al suo hotel e poi dopo ci aveva ripensato io però ci sono andato lo stesso ho cercato di salire lo stesso nell'hotel e chiaramente lei non mi ha fatto entrare non lo so andare ad appuntamenti dove magari lei si portava dietro anche l'amica giusto per fare esperienza oppure non lo so magari andare molto fuori non molto fuori città però fare tanta strada per andare ad appuntamento quando diciamo lei non aveva investito niente perché nell'ottica di fare più esperienza possibile poi dopo potete selezionare di più comunque è un discorso che non state a farvi adesso lo potete fare più avanti quando avete più esperienza quando avete più risultati vediamo se ci sono novità da desktop pare di no quindi commenti sembra che io li veda dal telefono quindi però io li vedo se qualcuno avesse domande può scriverle intanto stiamo andando avanti lisci allora altro anonimo chiede buonasera Luca da quando hai iniziato il tuo viaggio quanto hai appreso del mondo femminile a volte anche le stesse donne non si comprendono o sbaglio allora da quando hai iniziato il tuo viaggio quanto hai appreso del mondo femminile a volte anche le stesse donne non si comprendono o sbaglio non è a volte, è la maggior parte delle volte quindi sono molte, poche le donne che sono consapevoli delle dinamiche che ci sono fra uomo e donna io delle volte chiedevo l'avrò fatto tipo 5 volte in totale in questi anni, dopo magari un appuntamento è andato male, chiedevo alla ragazza, proprio le dicevo le chiedevo appunto un feedback le dicevo, non ti preoccupare tu sii onesta, non mi importa anche se magari mi ferisci fa niente tu, però sii onesta, mi interessa di più che sei onesta, così almeno ho il feedback per migliorare, anche se magari mi offendi, mi fa male, non ti preoccupare tu dammi il tuo feedback onesto andando a riguardare adesso queste chat, mi rendo conto che i feedback che mi davano erano delle stronzate mega galattiche l'appuntamento quando va male è o per mancanza di contatto fisico perché l'hai fatto troppo in ritardo, perché l'hai fatto male perché non saprei come farlo, oppure perché hai gestito male le logistiche, oppure perché hai seguito troppo le sue regole sono queste qua di solito le cause però le cose che scrivevano loro non stavano né in cielo né in terra mi ricordo che una tipo mi ha detto eh sì, non mi è piaciuto che non mi hai riaccompagnato fino a casa ma un appuntamento che era andato bene in tutto con l'escalation fisica però lei non si era fatta baciare in nessun modo continuava a rifiutare il bacio e io a un certo punto ho detto ok basta, me ne vado e lei appunto quando l'ho chiesto il feedback mi diceva eh sì, non mi è piaciuto il fatto che non mi hai riaccompagnato a casa ok adesso alcuni magari la possono interpretare come lei voleva che io andassi a casa con lei così mi faceva salire ma vi posso assicurare che contestualizzandolo siccome conosco il tipo di ragazza che era questa qua un feedback che non stava né in cielo né in terra ok oppure altre ragazze adesso non vi sto a fare tutti gli esempi però i feedback che mi davano erano cose che non stavano né in cielo né in terra ok le ragazze la maggior parte delle ragazze non sono consapevoli delle dinamiche fra uomo e donna non sono consapevoli dei comportamenti ai quali rispondono loro un sacco di volte dicono di volere una certa cosa ma poi quando gliela dai quando gli dai un certo comportamento loro non rispondono a quel comportamento rispondono magari all'opposto di quel comportamento la classica cosa è dicono di volere il bravo ragazzo e poi sono sempre con lo stronzo di turno perché logicamente dicono di volere il bravo ragazzo ma le donne non sono logiche sono emozionali il bravo ragazzo è più imprevedibile crea attrazione eccetera vari discorsi che non è questo l'argomento però questo è il classico esempio ok quindi la maggior parte delle ragazze non sono consapevoli di queste dinamiche quindi i feedback delle ragazze quello che dicono le ragazze bisogna stare parecchio attenti ci sono le ragazze che sono molto consapevoli di se stesse che sono consapevoli delle dinamiche ma la grossa maggior parte non sono consapevoli delle dinamiche allora Daniele chiede abbiamo abbiamo uno che non è anonimo assurdo Daniele chiede buonasera Luca esistono delle fasi da seguire dall'approccio fino alla proposta di Istandate se sì quali sono e quali ritieni essenziali allora sull'Istandate mi reputo l'esperto mondiale poi magari non è vero però sull'Istandate ti posso dire un sacco di cose che non trovi praticamente da nessuna parte io anche di recente ho comprato un videocorso di una persona non sto a dire che è sempre sul game sulla seduzione e l'avevo comprato perché c'erano più videocorsi all'interno di un pacchetto di videocorsi l'avevo comprato per un argomento specifico però c'erano anche tanti altri argomenti e sono andato a vedere lui come spiegava l'Istandate spiega tipo l'1% di tutto quello che serve per andare in Istandate quindi anche anche a pagare non si trovano le informazioni sull'Istandate poi ci sono però tante cose mancano quindi per l'Istandate c'è anche un video Daniele non so se sei collegato se sei collegato batti un colpo c'è un mio video su Youtube che in realtà è anche troppo completo è spiegato tutto lì quindi scrivi su Youtube come fare un Istandate approcciale.it e lo trovi le fasi fondamentalmente per l'Istandate sono l'approccio poi devi agganciare la ragazza quindi tramite la conversazione tramite il creare attrazione quindi l'attrazione si crea fondamentalmente con caratteristiche comportamentali quindi coraggio essere divertente eccetera quindi approccio la devi agganciare puoi capire le logistiche quindi sei libera o occupata e poi c'è l'invito quindi queste sono le quattro fasi quindi approccio agganciarla poi capire le logistiche e poi l'invito ok? quindi potrei stare qua a spiegare fai conto che nel video corso di che poi uscirà probabilmente a marzo che l'ho già girata la lezione sull'istan date penso che duri forse un'ora la lezione sull'istan date quindi capisci che ci sono tante cose da dire quindi per chi appunto fosse interessato poi ad avere più informazioni su questo video corso trovate il link nella descrizione quindi per chi guarda dal gruppo facebook c'è il link nella descrizione per iscrivervi alla lista d'attesa per chi guarda da youtube o dalla pagina facebook andate su www.approchera.it la prima cosa che trovate è il pulsante per iscriversi alla lista d'attesa per il video corso abbiamo Giorgio collegato assurdo dove sei Giorgio? sei in qualche crociera a Miami dove sei? da dove stai guardando oggi? come va? come procede Giorgio? hai messo in pratica qualcosa dopo il corso? poi abbiamo un altro che non è anonimo che Pablo Pablo chiede ciao Luca faccio dei game da circa un mese sto notando che quando riesco a fermare una ragazza per parlare dopo le prime battute in cui cerco di capire la sua logistica e di cosa si occupa non so bene come portare avanti la conversazione per creare attrazione hai suggerimenti per un principiante come me? allora ci sono già due video di cui uno anche abbastanza approfondito sul appunto di cosa parlare nella conversazione con la ragazza li trovate appunto su youtube scrivete di cosa parlare con una ragazza approcciala.it e trovate appunto questi video sulla conversazione ciao francesco buonasera a tutti chi si sta collegando adesso in alto a destra cliccate ci sono tre puntini e abilitate le notifiche per tutte le volte che ci sono le dirette allora quindi detto questo ci sono già dei video miei su youtube dove appunto parlo di questo puoi provare a fare delle supposizioni quindi supposizioni per esempio sull'età sulla provenienza appunto sul lavoro quindi anziché chiederle cosa fai nella vita quanti anni hai di dove sei per il lavoro magari le dici non so hai un look abbastanza artistico secondo me fai non so lavori in ambito moda in ambito design non lo so hai un look molto non so professionale secondo me fai l'avvocato non lo so quindi deve essere sincera come cosa cerchi di capire cosa fa in base magari al suo look oppure per le supposizioni sull'età magari le dici mi sembri piuttosto giovane secondo me hai tot anni quindi queste sono tutte cose che puoi fare all'inizio per mantenere viva la conversazione oppure le supposizioni sulla provenienza magari lì ti basi sul suo accento e gli dici è un accento abbastanza particolare secondo me sei di e provi a indovinare in che zona dell'Italia è oppure se magari è straniera provi a indovinare di che paese è adesso ti do un altro suggerimento prima vediamo che scrive Giorgio no sono in Italia in arrivo da Vegas che hai fatto a Las Vegas sei andato a bruciarti i soldi al casino Vegas è una città assurda per il day game ecco lì cazzo hai fatto qualcosa a Las Vegas cazzo è una città assurda per il day game lì puoi fare day game anche nei casino cioè negli hotel lì al piano terra dove ci sono appunto adesso non ci sono mai stato però so di persone che hanno fatto dei corsi con altri esperti di seduzione in America corsi a Vegas a Las Vegas e lì dicono appunto che è una città fantastica per il day game perché lo puoi fare anche al coperto diciamo nei centri commerciali nei casino c'era gente per esempio che mi diceva che sempre a Las Vegas che si prendeva la camera in hotel e poi potevi fare il day game al piano terra e quindi era facilissimo portarsi le tipe su in camera pensavo impossibile ma ola amorosa assurdo ti sei fidanzato? signori abbiamo testimonianza live Giorgio che ha fatto veramente scrivimi i dettagli barro robotici di solito scrivici i dettagli mandami un messaggio un audio un qualcosa figa ma tu non puoi dirmi così live ti sei fidanzato? assurdo chi è questa? come l'hai conosciuta? scrivi qua a dettaglio se no mandami un audio magari un messaggio scrivi assurdo va bene andiamo avanti quindi sempre riguardo la conversazione un esercizio per esempio allora adesso io vi do l'esercizio l'ho già detto un sacco di volte questo esercizio ora bisogna farlo l'esercizio non solo ascoltarlo bisogna farlo ok? perché poi voi volete la soluzione però io l'ho già data un sacco di volte la soluzione però nessuno la mette in pratica poi chi la mette in pratica appunto mi manda i messaggi mi dice ah sì effettivamente non ho più problemi di conversazione fate l'esercizio che vi sto per dare se volete migliorare sulla conversazione se volete non avere più problemi sulla conversazione tutti i giorni per 10 minuti al giorno prendete una parola a caso ci sono le applicazioni sull'app 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 che si chiamano comunque vi scaricate delle applicazioni dove cliccate e vi esce una parola a caso dovete parlare su quella parola dovete creare un monologo di 10 minuti su su questa parola quindi non lo so esce fuori cane dite cane mi fa venire in mente il cane di mia zia che è un bar non lo so quindi iniziate a parlare a ruota libera su quella parola e potete saltare anche da un argomento all'altro quindi non dovete per forza confinarvi a quell'argomento all'argomento iniziale se poi vi viene in mente qualcos'altro potete saltare tranquillamente anche su altri argomenti la parola serve solo per iniziare e fate questo esercizio tutti i giorni per 10 minuti al giorno quindi dovete fare un monologo di 10 minuti tutti i giorni per 3 mesi dopo 3 mesi quindi lancio la sfida chi lo fa per 3 mesi poi mi ricontattate venite live me lo dite e vediamo se non siete migliorati nella conversazione il problema è che io dico alla gente di fare questo esercizio poi magari lo fanno un giorno due giorni e poi lasciano stare dovete fare questo esercizio costantemente e vedrete che avrete risultati se andate a guardare sul sito alla sezione risultati c'è un ragazzo che si chiama Riccardo che se guardate la sua testimonianza c'è un punto in cui lui dice che sta facendo questo esercizio tutti i giorni da qualche mese e lo faceva appunto 10 minuti in italiano e 10 minuti in inglese e appunto diceva che non aveva più problemi di conversazione quindi va fatto l'esercizio non va scritto capito bisogna farlo ok Giorgio G dice è un lungo audio fa niente tu mandalo voglio sapere com'è andata poi Anonimo chiede buonasera Luca ti è mai capitato che la ragazza con cui avevi stabilito l'appuntamento si presentasse con un'amica se dovesse accadere come possiamo comportarci allora mi è capitato qualche volta però cioè non che lei si presentasse così all'improvviso con un'amica che me lo diceva prima magari me lo diceva qualche giorno prima ma me lo diceva prima comunque non si presentava all'improvviso con l'amica è successo forse tre volte però mi ricordo che una volta due volte me ne ricordo così subito forse c'è anche una terza una volta che mi son portato mi son portato dietro un mio amico e però comunque non è andata bene e la seconda volta che l'ho fatto ho detto ci vado da solo l'appuntamento almeno se faccio errori li faccio per causa mia perché mi ricordo che la prima volta che l'ho fatto diciamo che io non ero d'accordo su quello che faceva questo mio amico e quindi poi non so se l'appuntamento è andato male per causa sua però sicuramente un po' ha influito questa cosa quindi ho detto vado da solo l'appuntamento anche se sono in due almeno se sbaglio sbaglio per causa mia e non per causa di chi mi porto dietro quindi diciamo che lo puoi gestire da solo consapevole del fatto che molto probabilmente non arriverai da nessuna parte non arriverai diciamo potresti arrivare magari al bacio però è abbastanza improbabile che riesci a portartela a casa tutte e due o che magari riesci a separarle e portartela a casa la tua ragazza che ti interessa è abbastanza improbabile può essere che magari riesci a io mi ricordo che quando sono andato da solo all'appuntamento diciamo ho colto alcuni momenti in cui l'amica magari era in bagno mi ricordo che praticamente ho fatto il bacio con la ragazza in questione che mi interessava mentre l'amica era in bagno eravamo seduti al tavolo all'appuntamento lei la ragazza che mi interessava era seduta insieme a me sul divano in cui ero seduto anch'io l'amica era seduta di fronte quindi ho sfruttato il momento in cui l'amica è andata in bagno per fare il bacio ok però chiaramente devi lavorarci cioè devi fare l'escalation fisica non puoi farla troppo evidente troppo esplicita perché c'è l'amica però per esempio l'escalation fisica come l'ho fatta adesso non mi ricordo perché sono passati forse tre anni fondamentalmente mi ricordo che eravamo coscia contro coscia quindi diciamo un'escalation fisica che fai diciamo in maniera quasi invisibile per esempio sotto il tavolo cioè sotto il tavolo non è che devi fare non è che devi fare cose strane però semplicemente anche stare coscia contro coscia già è una cosa buona che puoi fare Giorgio dice ti ho mandato l'audio ottimo lo ascolto dopo la diretta o se no se vuoi apro apro whatsapp web e lo ascoltiamo tutti insieme però non credo sia il caso quindi poi poi lo ascolto su dopo la diretta allora dove siamo arrivati ok altra domanda di Anonimo intanto chi ha domande potete scriverle io sto iniziando ad avere freddo nonostante ho il calorifero alla massima potenza la prossima volta mi metto la giacca facciamo in live giacca e camicia qui metto anche la cravatta Anonimo chiede ciao Luca continuerei a fare le tue dirette del lunedì dedicate a un tema specifico sì però quelle dirette in cui si parla di un tema specifico vanno diciamo a ispirazione diciamo per esempio la prossima a tema specifico che ci sarà sarà il 30 di dicembre quindi segnatevelo il 30 di dicembre che pensavo di chiamarla l'anno nuovo non esiste poi capirete il perché quando facciamo la diretta ma sì tanto ho messo ho messo ho messo i nomi ok basta che non si veda sul mio profilo sì sì tanto non si vede niente tutto censurato nessun nome è come tanto il video di testimonianza che hai lasciato quando abbiamo fatto il corso lo trovi sul sito vai su www.approciala.it slash risultati o sennò vai sul sito e vai alla sezione risultati scorri giù e trovi la tua testimonianza e vedi c'è semplicemente solo il nome non c'è il cognome non c'è niente la faccia è censurata quindi quello lì ciao Onofrio buonasera signori quindi le dirette a tema specifico vanno a ispirazione non sono programmate per esempio mi ricordo quando c'è stata ho fatto una diretta sulla procrastinazione sul rimandare l'ho fatta tipo il primo di settembre perché lì la gente sempre dice da settembre inizio da lunedì inizio e quindi ho detto ok il primo settembre facciamo la diretta sul rimandare quindi vanno un po' così a ispirazione oppure magari dopo un corso dal vivo mi ricordo dopo un corso di sette giorni che c'è stato che lo studente aveva fatto un sacco sempre gli stessi errori nell'appuntamento allora ho detto ok facciamo una diretta in cui spiego gli errori tipici che si fanno negli appuntamenti quindi quelle vanno un po' a ispirazione ok allora Anonimo chiede come gestire una ragazza che durante l'appuntamento comincia a parlarti dei suoi problemi personali a volte la gente ti prende per il loro psicologo personale butta fuori tutto tanto per loro sei un estraneo e niente ok ascoltala però poi taglia e cambia argomento di solito più la ragazza è attratta meno questa cosa succede di solito succede quando ti comporti troppo da amico ti comporti appunto nel momento in cui come si fa diciamo a comportarsi da amico di solito quando non fai contatto fisico ok quindi ricordiamoci parliamo di approcci a ragazze sconosciute se ti ritrovi a un appuntamento con una ragazza che è approcciata di giorno per strada e lei inizia a diciamo a parlarti dei suoi problemi personali a confidarsi con te della sua vita da una parte bisogna vedere cosa ti confida se inizia a parlarti dei suoi problemi non va molto bene di solito accade quando non è attratta di solito accade quando finisci nella zona amicizia perché non ti sei comportato da uomo quindi di solito perché non si fa contatto fisico mi ricordo che era successo me ne ricordo una in particolare che a un certo punto tipo dopo un po' di appuntenti mi ha detto che sono stato l'unico che non ci ha provato con lei chiaramente era sbagliato nel senso ho fatto io errori che mi ricordo era tipo 3-4 anni fa che ho fatto sono uscito con questa ragazza 4-5 volte non ho mai fatto quasi contatto fisico con lei tipo ai primi 1-2 appuntamenti ho sbagliato con il contatto fisico non l'ho fatto poi chiaramente dopo è tutto rovinato difficile che poi recuperi a un certo punto inizi a fare le cose giuste se la base non l'hai fatta già bene e mi ricordo che questa ragazza diciamo mi parlava siccome lei era fidanzata in quel momento mi parlava del suo ragazzo che si lamentava eccetera ma fondamentalmente ero diventato il suo amico il suo confidente perché non mi ero comportato da uomo non facevo contatto fisico con lei quindi di solito accade per questo motivo poi certo che è proprio brutta sta cosa delle notifiche cioè siamo presenti quasi in dieci chissà in quali saremmo stati se fosse arrivata la notifica che cosa brutta vabbè Anonimo chiede ma che cosa cerca una ragazza che tiene il piede in due scarpe a livello di relazioni allora che cosa cerca una ragazza che tiene il piede in due scarpe a livello di relazioni diciamo non è che cerca qualcosa nella mia esperienza i motivi che mi vengono in mente adesso sono uno che ha paura di lasciare il ragazzo quindi semplicemente inizia un'altra relazione senza chiudere quella precedente perché ha paura di lasciare il proprio ragazzo magari ha paura della relazione non vuole ferirlo oppure non so ha paura di lui non lo so quindi fondamentalmente uno ha paura di lasciare l'attuale ragazzo e la seconda cosa è che diciamo una ragazza che tiene il piede in due scarpe è perché diciamo per soddisfare tutti i suoi bisogni perché non riesce a soddisfare tutti i suoi bisogni con una sola relazione magari è tipico il motivo dei tradimenti di solito è perché la ragazza non è soddisfatta a livello sessuale super tipico quindi magari con il ragazzo attuale si trova bene a livello sentimentale però non si trova bene a livello sessuale e quindi va a cercare in un'altra relazione ok quindi ma con l'altro ragazzo non gli interessa di essere diciamo i fidanzatini semplicemente ci fa sesso e basta quindi in questo modo colma diciamo il bisogno sentimentale quindi di essere in una relazione di avere un fidanzato e il bisogno sessuale ok quindi sono questi qua i motivi di solito quando lei tiene il piede in due scarpe Anonimo chiede ragazze psicopatiche come possiamo riconoscerle ed evitarle per non avere future grane troppo generica come domanda cioè cosa vuol dire psicopatica perché potrebbe voler dire una cosa per te per me potrebbe volerne dire un'altra per un altro potrebbe volerne dire un'altra quindi troppo generico ti posso dire una volta una che ho capito che era un po' psicopatica a un appuntamento mi ha morso un dito mentre io provavo a fare contatto fisico con lei mi ha morso un dito ma anche forte non era per finta me l'ha morso forte poi dopo l'ho portata a casa mia lo stesso appuntamento tipo arriviamo in casa e mi chiede se può farsi una doccia a casa mia così poi dopo è uscita la doccia nuda e poi abbiamo scopato quindi non capisci un po' psicopatica però dipende non so che dirti troppo generica come domanda cioè cosa intendi per psicopatica se sei collegato anonimo puoi puoi dirmi di più se no niente Hermes Hermes dice ciao Luca è sempre necessario spingere almeno per il bacio dal primo appuntamento mi è capitato di fare un appuntamento in cui la ragazza è molto presa e risponde bene al contatto fisico e lì sono andato facilmente per il bacio un altro in cui un'altra ragazza ad esempio rimanendo comunque a suo agio è stata più rigida e distaccata in quel caso ho volutamente evitato di provare a baciarla perché percepivo sarebbe stato scalibrato allora stai attento perché delle volte lei è proprio magari diciamo rigida diciamo non si espone troppo e lei è proprio così quindi stai attento delle volte diciamo capita anche abbastanza spesso capita parecchie volte che lei sta per le sue non si espone non fa contatto fisico con te non ti dà troppi diciamo indicatori positivi però l'unico indicatore positivo che devi tenere in considerazione è che lei è lì sei una ragazza che hai approcciato per strada poi viene a un appuntamento è interessata non stare poi a farti problemi che non dimostra troppo interesse all'appuntamento un sacco di volte mi capita che poi io continuo la mia escalation fisica poi provo a baciarla e si lascia baciare quindi tieni in considerazione che molte ragazze sono proprio così tu dici che un'altra ragazza rimanendo a suo agio è stata più rigida e distaccata dici però magari semplicemente lei è così però era comunque interessata quindi testa le acque con l'escalation fisica testa le acque appunto con una progressione a livello di contatto fisico testa le acque a un certo punto magari baciandola sulla guancia per vedere come reagisce ok di solito almeno provare il bacio lo si può fare sempre anche se magari lei è un po' più sulle sue chiaramente se vedi che è super timida che proprio non ha esperienza magari ok ma di solito si può sempre almeno provare il bacio ok io ti consiglio sono molte 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 poche le eccezioni in cui è controproducente il provare il bacio al primo appuntamento di solito lo puoi sempre almeno provare poi magari lei non ci sta però almeno provarlo io in realtà consiglio di farlo sempre mi ricordo ci sono stati degli appuntamenti che ho fatto in passato di ragazze che come dici te appunto mi ricordo che erano un po' diciamo io premetto che erano un tempo in cui avevo poca esperienza e mi ricordo che sul contatto fisico anche lei la vedevo un po' a disagio un po' diciamo restia e quindi ho detto ok non provo a fare il bacio durante l'appuntamento provo a farlo la prossima volta però fondamentalmente era perché magari non ho costruito bene attrazione e perché non ho fatto diciamo le cose fatte bene mi ricordo questo appuntamento in cui ho preferito non baciare la ragazza perché la vedevo appunto come dici te più restia eccetera però se vado se ci penso adesso a quell'appuntamento è perché ho fatto altri errori ok di solito si può sempre fare provare il bacio e quindi stai attento perché delle volte proprio le ragazze non si espongono delle volte sono proprio lì stanno sulle loro però se puoi provare a baciarle ci stanno ok quindi stai attento questa cosa qua se se aspetti poi marzo c'è il mio videocorso sulla parte dell'escalation fisica per chi ha il mio audio corso chi ha fatto i corsi lo sa già spiego proprio il concetto che non ci sono i segnali positivi nell'escalation fisica io avevo imparato che prima di andare a una mossa più pesante di contatto fisico bisogna aspettare che lei diciamo non so come dire faccia contatto fisico anche con te quindi se per esempio magari non so le non so le metti un braccio intorno diciamo per considerarlo come segnali positivi e quindi andare avanti con l'escalation fisica devi aspettare che anche lei ti metta il braccio intorno quindi questo qua sarebbe un segnale positivo quello che ho imparato nella mia esperienza è che questi segnali positivi non arrivano quasi mai quindi cancela i segnali positivi i segnali neutrali diventano i nuovi segnali positivi quindi semplicemente anche se lei risponde neutralmente all'escalation fisica sta andando bene procedi 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 fino poi ad arrivare al bacio per più dettagli ti consiglio di partecipare ai corsi al vivo e ti viene dato come bonus l'audio corso se no aspetta più o meno marzo e ci sarà il video corso con tutte queste informazioni io dico marzo però potrebbe essere aprile come potrebbe essere febbraio come potrebbe essere dicembre dell'anno prossimo non lo so però diciamo più o meno penso che sarà marzo 2020 allora Anonimo chiede buonasera Luca da milanese come commenti la notizia di Milano città con migliore qualità di vita in Italia come si pone nei confronti di altre città europee che hai visitato dal punto di vista della seduzione allora per quello che ho visto io se diventi bravo a Milano è una passeggiata praticamente praticamente quasi ovunque potrei fare un discorso molto più lungo però cerchiamo di tenerlo più corto le ragazze italiane come ho già spiegato altre volte sono troppo abituate ad essere approcciate quindi hanno una scelta enorme di conseguenza devi passare attraverso diciamo una barriera leggermente più alzata poi un altro passi a barriera tutto regolare come qualsiasi altra ragazza però rispetto magari a una ragazza tedesca che è molto poco abituata ad essere approcciata è molto più facile ottenere una risposta molto positiva già solo in apertura da una ragazza tedesca piuttosto che magari italiana perché appunto come ho detto le ragazze italiane sono costantemente bombardate sia dal vivo che in chat ok per esempio sono stato a Varsavia di recente a settembre a tenere un corso di sette giorni e lo studente appunto lo cito spesso che ha fatto sei appuntamenti di sette giorni di cui se poteva chiuderne quindi andrà a letto con almeno quattro di queste sei ragazze quindi io ho pensato cioè se lui che era poi alla fine ne ha chiusa una quindi di questi sei appuntamenti e ho pensato minchia se lui ha fatto sei appuntamenti in sette giorni che comunque era una persona più o meno che era agli inizi ho detto minchia ma se mi fossi messo io a approcciare per sette giorni che cosa sarebbe successo quindi se diventate bravi in Italia io parlo di Milano perché comunque Milano la reputa una piazza piuttosto dura e difficile però si può fare un sacco di esperienza a Milano si può fare un sacco di esperienza proprio anche a livello internazionale ci sono ragazze di un sacco di paesi potete imparare un sacco a livello di altre nazionalità di ragazze di altre nazionalità semplicemente stanno a Milano quindi è una piazza abbastanza dura però diciamo se imparate qui conosco un ragazzo che non so se è presente nel gruppo che viveva a Malta e poi si è trasferito a Milano da Malta che faceva tipo due appuntamenti a settimana si scoprava tipo una ragazza diversa ogni settimana è venuto a Milano che è passato praticamente a zero cioè quasi zero magari delle volte andava a letto con una ragazza al mese però passare da quattro cinque sei ragazzi al mese passare a una se gli va bene capite che è una piazza abbastanza dura le città cioè ne ho viste diverse di città però teniamola abbastanza breve ti posso dire che diciamo posti diciamo più difficili di Milano ti posso dire c'è la Russia quindi Mosca la Lituania la Lettonia la gente cogliona che non ha esperienza dice eh minchia è più facile con le Russe vado in Lituania e scopo un casino vado in Lettonia e scopo un casino certo poi quando gli chiedi a queste persone ma fammi vedere cioè dove sono mi fai vedere dove sono le famiglie delle foto delle chat di ragazze che hai approcciato dal vivo in Lituania in Russia in Lettonia fammeli vedere dimostramelo e vedi queste persone mi fanno eh ma secondo me perché sono dei coglioni che non hanno esperienza quindi le ragazze di questi tre paesi che ho citato di solito sono molto più dure a livello di diciamo di diciamo a livello di quanto è difficile portarle a letto ok per vari motivi quindi diciamo diventare bravo per esempio diventare bravo approcciare per strada a Mosca in Russia ti fa diventare veramente molto bravo anche a Milano quindi è un po' come allenarsi con i pesi per esempio allenarsi con un peso da non so provare a sollevare in palestra 100 kg mettiamolo che è Milano e poi dopo magari andate non so a Barcellona e alzate pesi da 20 kg è molto più leggero è molto più facile ok mentre magari andate in Russia dovete alzare un peso di 120 kg chiaramente se alzate il peso da 120 kg poi dopo quello da 100 kg è un po' più facile ok quindi un discorso però per esempio mi dicono mi dicono non ci sono mai stato che Budapest è molto facile l'approccio per strada mi dicono poi non ci sono mai stato però ci andrò a breve quindi potrei stare a dirtene diverse però diciamo se no non finiamo più siamo già anche a un'ora e un quarto quindi ragazzi ma chi è collegato da un'ora e un quarto non ci avete grandi bravi e andiamo avanti vediamo quante domande abbiamo ancora due domande poi abbiamo finito quindi chi avesse domande può scriverle adesso e se no abbiamo ancora quattro e due domande poi abbiamo finito quindi Anonimo chiede veramente le donne percepiscono se noi abbiamo paura sia nell'approccio che nell'interazione come proviamo a rilassarci non devi rilassarti questo è il concetto non devi cercare di rilassarti devi passare attraverso quello stato di disagio di paura sentire quell'emozione di paura disagio farla scorrere in modo che questa sensazione poi passa e diciamo l'hai diciamo fatta uscire ma definitivamente quindi l'ho già spiegato altre volte stai passando attraverso quella sensazione di paura senza cercare di mandarla via stai facendo stiamo stai togliendo poco per volta un pezzo di quella paura un pezzo di quel sentirti a disagio se invece però cerchi di rilassarti di mandarla via di sentirti a tuo agio la stai sopprimendo quindi quella sensazione di disagio poi rimane sempre lì la stai soltanto sopprimendo invece se la fai uscire in modo da rimuoverla definitivamente poi dopo le altre volte non devi rilassarti le altre volte sei già a tuo agio di tuo e non hai bisogno di rilassarti sei già rilassato di tuo questo concetto lo spiego nei corsi dal vivo quindi ti consiglio di venire ai corsi dal vivo di due giorni o sette giorni trovate tutte le info e le date sul sito www.approcciala.it ultima domanda di Anonimo aspetta che guardo un attimo da desktop prima che magari ok non ci sono robe nuove da desktop ok allora Anonimo chiede ciao Luca ma la riprova sociale che più attira di più le donne qual è? non credo che uno possa essere abile in tutto innanzitutto perché no puoi diventare abile in tutto quindi chiaramente è un percorso quindi io ti consiglio di puntare lì nell'essere abile in più cose possibili però diciamo la riprova sociale che più attira le donne è la preselezione ok quindi il fatto che tu sia già stato convalidato mettiamola così da altre donne quindi lo puoi subcomunicare tramite vari modi perché appunto prenderai il videocorso dall'approccio al sesso che uscirà verso marzo c'è proprio una lezione dedicata a questo che non ho già girato però l'ho scritta e lo puoi subcomunicare in diversi modi per esempio tramite i social quindi il fatto di farti vedere sui social con altre ragazze ok però la preselezione funziona se la ragazza sulla quale stai cercando di fare colpo ti vede con ragazze più belle di lei se ti fai vedere con ragazze più brutte e lei non funziona questa cosa tramite il dimostrare che conosci il mondo femminile ok tramite il fatto che sai decifrare i suoi comportamenti come ho detto sono cose che ho spiegato che spiegherò nel videocorso tramite il fatto che ti dimostri diciamo le fai vedere molta sicurezza interiore di conseguenza facendole vedere molta sicurezza interiore lei capisce che hai già esperienza con ragazze di conseguenza le stai comunicando preselezione sei già stato convalidato da altre donne quindi diciamo sei già stato approvato quindi è molto più facile che lei sia trattata a te piuttosto che uno che diciamo non è mai stato convalidato da altre ragazze ok sono discorsi più lunghi e poi diciamo la preselezione la puoi anche subcomunicare dal fatto che non ti fa influenzare dalla sua bellezza quindi se rimani molto non reattivo alla sua bellezza le fai vedere che sei abituato a ragazze belle sei abituato a stare in presenza di ragazze quindi questo sono tutti i modi per subcomunicare la preselezione la preselezione è una diciamo uno dei modi per generare attrazione ok quindi continuate con un discorso molto più lungo se qualcuno ha altre domande le scriva adesso se no siamo decisamente in chiusura quindi se avete amici che potrebbero essere interessati a questo tipo di argomento quindi come migliorare con le ragazze come approcciare le ragazze eccetera potete invitarli al gruppo per chi guarda adesso dal gruppo facebook in live o per chi guarderà in differita c'è un link nella descrizione che la prossima volta non metterò perché a quanto pare non fa arrivare le notifiche questa cosa quindi potete cliccare sul link che c'è nella descrizione per iscrivervi alla lista d'attesa per il videocorso lasciate i vostri dati c'è da lasciare anche il numero di telefono non venite chiamati da nessun call center rumeno semplicemente quando poi esce il videocorso vi arriva un messaggio su whatsapp tutto lì e per chi invece fosse interessato ai corsi al vivo i corsi al vivo sono sold out fino a metà febbraio quindi fate un po' voi se non sbaglio a marzo e aprile ci sono due corsi di sette giorni quindi si vedranno cose interessanti in quei due corsi quindi chi volesse iscriversi per i corsi di marzo e aprile ci sono due date disponibili uno a marzo e uno ad aprile e trovate tutte le informazioni su queste cose sul sito www.approcciala.it dove c'è la sezione corsi o se no se avete qualsiasi domanda qualsiasi dilemma esistenziale dubbio eccetera potete scrivere all'assistenza clienti via whatsapp il numero è 351 646 6774 per chi guarda da youtube lo trovate anche nella descrizione per chi guarda da facebook lo trovate sopra nell'immagine della pagina o del gruppo quindi io non ho nient'altro qui quindi direi che la chiudiamo qua e speriamo la prossima volta di risolvere sta cazzo di cosa delle notifiche tutte le volte c'è sempre un problema va bene signori ci vediamo domani con il prossimo video lunedì prossimo con la prossima diretta e sperando che ci siano le notifiche quindi signori buonasera e speriamo